Allora, ho incontrato Marco, ormai insomma 31 anni lo sono, e l'amicizia che ci rega è sicuramente fraterna. E non credo che sia un caso che il 2017 sia un anno speciale per entrambi, perché oggi siamo qua a festeggiare l'unione con Federica, che è una ragazza capace di mettere tutti d'accordo per la sua energia positiva e per il suo sorriso a 250 carabili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.